Amore, oggi è il 10, fra due settimane è Natale e non abbiamo ancora deciso cosa fare. Come no? Non andremo a sciare sulle Dolomiti? Di nuovo sulle Dolomiti? Ma ci siamo stati l'anno scorso. Dai, perché quest'anno non andiamo a Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Ma scherzi, solo i biglietti aerei costeranno più di 3.000 euro. Ma no, che dici? Ho visto il dépliant di un'agenzia specializzata in viaggi in Sud America e ho anche telefonato. Volo più 5 notti in un albergo sul mare costano 1.490 euro a persona. Davvero? Beh, è un prezzo ragionevole. Io però a Natale non voglio andare al mare. Io voglio mangiare il panettone, fare regali, essere al cenone di Capodanno con amici e parenti e soprattutto sciare. Insomma, feste tradizionali. Ma dai, amore, facciamo qualcosa di diverso. Tutti vanno a sciare a Natale, mentre quello che propongo io è un'esperienza completamente nuova. Ma scusa, se a Natale andiamo al mare, ad agosto che facciamo? Andiamo sulle Alpi a fare snowboard? Non lo so, Paola. Vedremo. Ma scusa, se a Natale andiamo a sciare a Natale. Ma scusa, se a Natale andiamo a sciare a Natale. Ma scusa, se a Natale andiamo a sciare a Natale. Ma scusa, se a Natale andiamo a sciare a Natale.